Finalmente in Friuli è uscito un po' di sole per cui riesco a farvi il tour dell'orto. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui per la prima volta vi mostrerò quello che è il mio orto per il 2021. Sono un pochino in ritardo rispetto allo scorso anno di circa una decina di giorni, anche perché appunto c'è stato parecchio freddo e quindi non era esattamente il caso di appunto mettere fuori le piantine. Mentre parlo vedrete delle piccole clip che mostrano il making of dell'orto. Mi ha dato una mano mio papà più che altro per preparare la terra appunto e se avessi dovuto farlo soltanto io ci sarei ancora zappando e preparando appunto la terra. Prima di mettere il telo abbiamo messo del concime granulare perché la terra qui in questo pezzettino qui dietro è stata piuttosto sfruttata quindi non è esattamente il massimo da coltivare. Novità di quest'anno è il telo che mi aiuterà più che altro a tenere sotto controllo le infestanti. L'anno scorso infatti non avevo voluto metterlo e ho passato praticamente i tre quarti del tempo nell'orto a togliere le erbacce. Per quanto riguarda le piantine, entraremo nello specifico più avanti nel video. Ho spostato anche le fragole perché erano decisamente un pochino strette nei vasi. Era già comunque previsto il fatto di spostarle nell'orto in terra quindi non in vaso. Vi dico subito che nel complesso per le piantine ho speso meno di 15 euro tanto per farvi un'idea e non ho tutto perché cose tipo patate, zucche e zucchine che hanno bisogno di molto spazio e delle quali io uso comunque poco le vado a prendere direttamente dall'orto dei miei che hanno più estensione quindi hanno modo di coltivare più cose anche. In altri punti del giardino ho anche ovviamente le aromatiche e direi di partire con il tour proprio da loro. Allora qui vedete i kiwi e sotto i kiwi ho quattro vasi sostanzialmente e ci sono nell'ordine rosmarino, timo, l'origano e la menta. Sono decisamente l'ideale se volete farvi appunto l'orto in balcone anche perché essendo questo tipo di erbe aromatiche qui hanno bisogno di veramente pochissima acqua e pochissima cura. In più vi faccio vedere da qua giù, qua giù in fondo di qua c'è l'orto, di qua ci sono la salvia che è un tra virgolette relitto del passato, non so nemmeno, probabilmente è più vecchia di me la pianta di salvia e la lavanda. E adesso procediamo verso quello che è l'orto vero e proprio. Qui vedete il pluviometro per sapere quanta pioggia viene e l'ho usato particolarmente quest'anno. L'anno scorso l'avevo fatto in questo senso qui l'orto ma quest'anno è in senso contrario anche per dare un minimo di ciclicità all'orto. Qui c'è erba cipollina, anche questa probabilmente è più vecchia di me ma continua a crescere sempre qui e quindi va bene così. Ho trapiantato le fragole rispetto al video del making of, diciamo così, dell'orto. Ci ho messo un po' di paglie in modo da tenere appunto i frutti sollevati dalla terra e da avere anche qui una sorta di pacciamatura in modo tale da far crescere molto meno l'erba. Il prezzemolo, arriva anche questo dall'anno scorso, è sostanzialmente ricresciuto dov'era senza neanche fare troppo sforzo quindi direi ottimo così. Ci spostiamo di qua e qui c'è la lattuga, ne vedete otto, andrò ovviamente a tagliarla e man mano che la mangio l'andrò a sostituire le varie piantine. Qui ci sono da questa parte qui quattro piantine di cetrioli, sono piuttosto ghiotta quindi probabilmente saranno decisamente sufficienti pur essendo solo per me. Dall'altra parte ci sono quattro piantine di basilico, forse un po' troppe ma vedremo. Poi queste due qui sono due piantine di peperoni, mentre dall'altra parte ci sono tre piantine di sedano. Piccola interruzione. Poi pomodorino ciliegino giallo, quindi una varietà un pochino più particolare e pomodorino piccadilli, leggermente più grande dei ciliegino dovrebbe essere. Queste due qui sono comprate come piantine, come praticamente tutto il resto. Mentre qui ci sono due piantine fatte, tra virgolette, in casa di pomodoro perino, ha una forma un po' particolare, sono decisamente più piccoli rispetto ai cuore di bue che avevo l'anno scorso, però comunque vanno benissimo, sono molto buoni. Da questa parte, come vedete, c'è un bel po' di spazio vuoto e mi piacerebbe che con un commento qui sotto mi lasciaste secondo voi cosa dovrei piantarci. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e commentate facendomi sapere che cosa posso aggiungere al mio orto, nello spazio che ho ancora. Vi ricordo anche di seguirmi iscrivendovi al canale, tratto principalmente temi legati al viaggio, però mi piace portarvi anche nella mia vita quotidiana come appunto il fare l'orto. Non è il primo anno che lo faccio, quindi sto cominciando a capire anche come trattare le varie piante. Attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella in modo tale da ricevere una notifica appunto ogni volta che carico un nuovo video. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, un pochino più da vicino. Magari vi farò vedere anche quando arrivano i primi pomodorini magari o i cetrioli. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video dicendovi come al solito Have a nice life!